Ciao, creatura. Io sono Ecati, splendente, e benvenuta e bentornata nel regno di Cosaè, come avrei letto dal titolo del video, un'azienda, un negozio, 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 di Amazon, mi ha inviato un set di pennelli per il make-up, e ho visto che le hanno inviati anche a altre artiste ASMR, e ognuno di loro le ha mostrate in modo differente. Io volevo semplicemente, da divinità a creatura, guardarli insieme, testarli insieme, così anche tu puoi dire la tua impressione, e io in realtà le ho già visti. Sono una quindicina di pennelli per il make-up. Stanno sui 9 euro, quindi hanno anche la loro confezione. Il colore è molto aesthetic, perché è una specie di rosa cipria, molto bella. Ma non perdiamo altro tempo in presentazioni, se no sai che Roberta si arrabbia. Andiamo a vederli insieme. Mi sono arrivati impacchettati in questo sacchettino trasparente, all'interno di questa bustina, di questo colore che non so in videocamera che colore si veda, ma comunque è tra lilla, il rosa e il grigio, un colore così pastelloso, un lilla pastelloso, secondo me è colore cipria, rosa cipria, no? O è? No, non è. O colore tortola forse? Forse è colore tortola, sai? rosa cipria, rosa cipria, forse è più sul rosa. Invece questo è più sul lilla tendente al grigio, quindi dovrebbe essere il colore tortola. Non ne sono sicura, però qua c'è la luce sparata, così. dovrebbe essere questo è il colore esatto, però appunto con la videocamera. Vabbè, allora la questa marca è AMKGO, quindi H-E-Y-M-K-G-O. G-O-G-O, e mi... gò, mi... gò... non lo so. H-E-Y-D-I-O-K-G-O-K-E-Y-O-K-O-Know-Know-Know-Know-Know-Know-Know. Allora, H di hotel, E di elefante, Y di yogurt, M di Marta, M di museo, K di, K di, non lo so, che mi viene Kelly, che è un nome. Allora, scrivetemi qualcosa con la K, di Kellogg's, è un altro brand, scrivetemi qualcosa con la K, di Kenya, non mi viene un oggetto però, mi viene solo un nome. Poi, G di Giovanni, o di Gambero, o di Ornitorinco, senti come sembra, Ornitorinco. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vederle. Oh, è tutto pelosetto dentro. Sono rimasti i tuoi piccini all'interno. Eccoli qua. Allora, andiamo a contarli. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici. Quattordici. E quindici. Oh, è super soffice. Si credo sia color tortura. Giustamente anche hanno la marca, il loro brand, sul manico di ogni pennello. E il colore è color tortura. Confermo che è color tortura. Poi, più ASMR dire color cipria. Color tortura, tortura, tortura. Quindi per forza deve essere color tortura. Allora, alcuni pennelli, quelli più grossi, hanno questa retina di protezione. Wow. E guarda che bello questo. Le sitole mi sembrano molto soffici, ma allo stesso tempo che non hanno l'idea che si stacchino. quindi resistenti, ma molto soffici. Ok. Cioè questo che si sta liberando da solo vuole essere liberato e liberiamolo. Allora, eccoti. Allora, provalo. Com'è? 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 soffice, 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 soffice. Allora, vediamo un po'. C'è anche questo. Allora, mi piace perché ce ne sono un po' di cicciotti, quelli per dare magari la cipria. Non li sprecherei per mettere il fondotinta. Mi sembrano sprecati. Ci possiamo mettere un po' di blush o la cipria. Con questo dare la cipria perché è bello e di soffice. Abbiamo da tamponare la cipria. così. Poi c'è anche questo per pettinare le nostre sopracciglia. Le nostre sopracciglia. Ah, ma è doppio. Quindi sono di più di quindici. Eh, sono sedici allora. Perché questo, ok? Perché questo forse non è considerato un pentilino. però c'è anche questo mini, 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 mini per fare l'eyeliner. Eccolo qua. Questo per fare l'eyeliner. Questo che ti faccio l'eyeliner. Bello. Questi li userò un po' per truccare me, un po' per truccare te nei prossimi video. Cosa ne pensi? Ma che trucco vorresti? Scrivimelo nei commenti. Piccolo piccolo. Poi vediamo un po'. Guarda questo com'è particolare. Voglio che nei commenti provi a indovinare a cosa serve questo pennello. i make-up artist del regno di... del regno di... del regno... diventato inglese. Del regno di Godai. Sicuramente indovineranno, lo sapranno, diranno... Facile, facile. Io so quale... A cosa serve questo? Si vede meglio qui. Provate a indovinarlo. Il primo che indovina... Lo... Pinzo, 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 pinzo. Lo metto... Come... Commento in primo piano. Quindi mi raccomando. E verrà anche salutato in un... prossimo video. In base alla scaletta. Quindi... A sorpresa in un video verrà salutata la persona che indovinerà per prima. Guarda qui. Questa qui è la forma. Te la mostro bene. È super soffice. Senti. Sto facendo delle ipotesi, eh. Non sto suggerendo. Provalo così, magari puoi indovinare meglio. Sì, no. Aspetta. Aspetta, aspetta. Ci sono. Eccomi qua. Poi ce n'è un altro bello cicciotto. Che è questo. Sti due belli ciccio, ciccio. Ciccio. Proviamolo insieme. Sti due belli ciccio, ciccio. Molto soffice. Molto soffice, però questo è più soffice. Vuoi sentire la differenza? Ecco ti accontentata, creatura. Ecco la differenza tra questo e questo. Questo è molto, 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 molto. più soffice rispetto a questo. Questo è un po' più. Se ci dare il blush con questo e con questo mettere la cipria. Però non so, è perché non sono una make up artist. Magari potresti anche correggermi. Ma secondo la mia esperienza di come mi trovo meglio, io direi che questo è per la cipria. Molto soffice. Quindi va così delicatamente. Così delicatamente. Mi senti sotto gli occhi. Delicatamente, delicatamente. La cipria. Senti? Sulla fronte. Puff, 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 puff. E sul mento. Puff, 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 puff. Puff, 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 puff. Puff, 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 puff. Bello. E questo è il blush. O forse anche l'altro. Non lo so, non lo so. Eh, questo è più compatto. Questo invece è molto più. Puff, 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 puff. Puff, 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 puff. Poi ovviamente ci sono quelli piccoli, piccoli. Per... Per... Eyeliner vari. O altri dettagli. O anche io vado ben con questi. Io anche per le sopracciglia. Però secondo me. Questo con questo le pettini. E con questo magari le riempi. Perchè è piccolo piccolo. Molto dettagliato. Poi ci sono quelli vari... Per... Per i vari ombretti. Punto luce. E poi questi che io amo. Stramo, stramo. Stramo. Questi qui. Per fare... Uno sfumato. Tipo... Smocchiare. Qui. Perchè... Avendo... L'occhio molto, molto, molto... Incappucciato. Andrei poi a sfumare. Come vado sempre. Quasi. Dipende dal make-up. A sfumare. Qui. Qui, senti. Qui. Qui. Sulla palpebra sopra. Qua. Vado a fare... Quando mi faccio un make-up. Un po' Cos. Vado a sfumare il grigio. Qui metto il nero. No. Qui metto il nero. Fino a quasi... Circa. Metà occhio. Poi metto una parte colorata qui. Che. Per esempio. Ieri sera è stata argentata. Invece. Potrebbe essere bianca. Potrebbe essere ancora meglio. Rossa. Dato che ho. Gli occhi. Verdi. Non proprio verdi. Ciruli. E... Fa un bel contrasto con l'ombretto rosso. E quindi andrei qui a mettere. Un colore. Più chiaro del nero. Che... Qualsiasi colore più chiaro del nero. Però non metterà un blu scuro. Non metterà un blu elettrico. Un azzurro. Però nero e blu azzurro non mi piacciono. E... E poi qui di solito ci vado a sfumare un grigio. E... Mi dà una profondità. Un... Uno sguardo molto... Mi piace. Quindi solito faccio così. Quando devo fare quella tipologia di make-up. Pure potrei andare a sfumare un po' di marroncino. Per fare un make-up un po' più acqua e sapone. Un po' più... Estetica. Tranquilla. E... Al momento... Non ho ombretti. Quindi... Ho solo blush. Ho spammato un po' qua e qua. Questi sono... Pennelli in questione. Adesso te li mostro tutti insieme. Poi mi piace questo suono quando i pennelli si toccano l'uno con l'altro. Eccoli qua. Tutti, 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 tutti i nostri fantastici pennelli. Guarda quei guanti. Che bel set. Alcuni non l'ho neanche aperti. Cioè... Uno solo. Vediamolo. Puff, vedete? Un bellissimo. Ah! Questa è una via di mezzo tra tutti. E... Sembra piatto e... Fisso. Cioè... Invece è morbido. Ah... Bella. Bella, bella. Non vedo l'ora di... Provarli con qualche make-up. Perché ancora non li ho provati. Perché volevo prima mostrare dei livelli puliti e nuovi. Ma quando li sono fiosi sporcheranno tutti e... E dopo li laveremo. Ho anche acquistato un... Un tappetino apposito con le ventose con cui si può... Con varie... Trame texture. Per pulire bene i pennelli. Perché... Con tutti i pennelli che ho... A fare così a mano. Non andavo tanto bene. E... Visto che... Ho fatto un altro ordine su... Shein. Ho preso altre cose che ti farò vedere. E c'è anche questo... Cosa... Tappetino. 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 Per pulire i pennelli che stavano in mega salto. Allora ho deciso di acquistarlo. Ho detto... È un segno. Devo comprare. Come dici? Proviamo tutti insieme? Oh no. Non so cosa succederà. Proviamo. Sono un po' in gasotto. Vuoi provarli così? Oh... So figgi e duri. Tuf 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 tu Visto come mi sono innamorata di questo. Fa proprio puff, senti. Vero? Bellissimo. Allora, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, creatura? Quale make-up vuoi? Prova a indovinare cosa serve quel pennello. Mi raccomando, quello più veloce. Pum, si becca il saluto e si becca anche che lo metto in primo piano come commento. Adesso lì li andiamo a riporre nel suo sacchettino qui, nella bustina. Secondo me, per il prezzo che hanno, ti danno anche la confezione, perché tante volte si acquistano i pennelli e te li danno così, sbagliati, senza la retina e senza neanche la confezione. Perché ne ho acquistati su diversi siti. Su Amazon si costano sempre un po' di più gli oggetti, però hai la possibilità del reso senza problemi. Perché adesso anche ho provato di persona che c'è il reso alle poste, non c'è bisogno neanche di comprare l'imballaggio. Io ho fatto il reso di un oggetto un mese fa circa e non c'è neanche lo sbatti, diciamo, di dove stare a acquistare. O di tenere da parte qualche scatola di Amazon, perché ti mandano un QR code via mail, basta fare lo screen col cellulare, vai in posta, vabbè, prendi il numero, fai la fila, eccetera, eccetera, puoi anche prenotare. E basta solo dire, ah, devo fare lo reso Amazon, fai vedere il codice dell'oggetto, loro lo impacchettano gratuitamente, mettono una confezione, ti fanno l'etichetta e tutto, ti danno la ricevuta e non devi fare, basta, tu hai finito, non devi pagare, non devi sbatterti per stampare fogli, cose, non devi fare niente. E loro lo spediscono, penso, non loro fanno tutto, quindi se fare il resto dentro 30 giorni, quindi secondo me, anche se le cose costano un po' di più, però hai dei vantaggi che con altri siti non hai, quindi da un certo punto di vista sei più tutelato, e quindi io preferisco adesso acquistare molto più su Amazon, perché appunto sei molto più tutelato, una volta non acquistavo molto da Amazon, invece adesso sto acquistando molto di più, molto spesso prediligo Amazon, poi dopo se prendo cose su Shein, perché magari su Amazon neanche ci sono, oppure se trovo delle robe a, tipo, ho preso, devo ancora arrivarmi, tra l'altro. Ecco, questo per esempio, non riesco a tracciare, Shein, e non ho, non sono arrivati nei tempi previsti, quindi sto aspettando, e avevo preso uno di quei parasoli per auto 1,75€, non lo trovi neanche dai cinesi, neanche al mercato, quindi ci sono delle cose, ok, che puoi prendere da un negozio, però per altre cose, e ci sono molte offerte valide, cose, sei anche più tutelato su Amazon, quindi bisogna valutare esattamente il prodotto e se ne vale la pena, ecco. Però spesso, ecco, prediligo Amazon perché appunto sei protetto da tutte queste cose, che negli altri siti magari ti promettono che sia così, ma poi quando arriva il momento ti devi sbattere per stampare centomila fogli, imballare come dicono loro, perché poi hanno anche delle regole lì, eccetera, eccetera, quindi, insomma, ci siamo capiti, ecco, e non tutti hanno tempo di fare tutte le cose come si deve, quindi a volte anche questa cosa, siccome Amazon si va meglio, vabbè, ti lascio il link del prodotto, dei pennelli, così te lo vai a vedere su Amazon, se ti servono, e non so se ho qualche codice sconto, comunque leggi tutto nell'info box qui sotto del video, spero che questo video ti abbia fatto rilassare, mi piace confrontarmi con te, guardare i prodotti insieme, e decidere insieme se belli oppure no, questi mi sono piaciuti da fin dall'inizio, e quindi sono onesta di come le hanno mandate, non sono stata pagata per mostrarti, solo me le hanno inviati gratuitamente, mi piacciono, e ho detto accettato perché le ho viste, mi piacciono, e spero che questo video ti abbia fatto rilassare, io ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura